Buongiorno, bentrovati all'appuntamento di venerdì 6 marzo 2020 con la nostra rassegna stampa, l'apertura come sempre dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, ovviamente si parla dell'emergenza coronavirus anche nella nostra regione, oltre che nel paese con scuole e università chiuse, una situazione che viene monitorata di ora in ora. Partiamo con il centro, andiamo a vedere l'edizione di Pescara, ma i titoli sono simili anche alle altre edizioni per quanto riguarda proprio l'emergenza coronavirus, più posti letto per i contagiati, vedete in Abruzzo ne servono 110, c'è il piano della regione, un 32enne di Lanciano il nono caso, coronavirus in Italia impennata di pazienti positivi al test, sono stati 590 in un solo giorno. Il presidente Mattarella, il presidente della Repubblica, basta ansie, ce la faremo, il messaggio del capo dello Stato. Poi vedete di spalla in prima linea, ricercatrice di Giulianova Isola, il virus ad Ancona. E poi le regole, ecco la mappa completa di tutti i nuovi divieti da rispettare. E si ferma anche il calcio dei dilettanti, il comitato regionale della FIGC ha sospeso tutte le gare in programma nel weekend. Parliamo dell'inchiesta Rigopiano, ora indagato Muriana. Nell'inchiesta c'è anche l'ex capo della squadra mobile della Questura di Pescara, archiviate le accuse ai tre carabinieri. Vediamo le altre notizie. Pescara, altri furti negli stabilimenti, presi di mira Nettuno e Saturno e poi controlli al via da lunedì, cani che sporcano e padroni incivili. In arrivo 80 sentinelle. Vediamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro. Ritroviamo, come detto, tutte le notizie e i richiami degli articoli all'interno del giornale per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Vediamo invece in basso la politica. Siamo a Chieti di Stefano. Il mio impegno per Chieti, la corsa sindaco, l'ex parlamentare Falelenco, ha assicurato fondi, ha fatto donazioni. Lanciano salta alla fiera dell'agricoltura, tende davanti all'ospedale. E poi a Vasto, al polo liceale Mattioli, in osservazione, 70 studenti erano stati a contatto con il prof. Vediamo la prima pagina del centro di Teramo. Parliamo di sisma. In questo caso il primo atto del commissario, il neocommissario alla ricostruzione Legnini, annulla le ordinanze di Farabollini bocciate dalla Corte dei Conti. Ora si può ripartire. Giulia Nova, rapine e botte coetanei, arrestato un bullo di 15 anni e poi Tortoreto, il giallo di Giulia, processo per le foto o se della ragazza. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. All'Aquila, preso a morsi in discoteca, siamo alla cronaca, denunciati 4 giovani e poi Luco De Marsi, bollette acqua non pagate, il CAM, stack 500 contatori. Vediamo la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, il coronavirus arriva a Chieti, positivo un 32enne appena tornato da un corso di aggiornamento a Reggio Emilia. Professore malato, 60 studenti in quarantena, paura anche a Casalbordino. Vedete poi la foto a centro pagina, l'epidemia, contagiato il personale sanitario a Termoli, è stato chiuso l'ospedale. I pazienti sono stati trasferiti a Vasto, Beleni di Rigopiano, forestali scagionati nel Mirino Muriana, il GIP, i militari non depistarono le indagini, fascicolo sull'operato dell'ex capo della Mobile. Poi l'Aquila, festa di Laura con botte e morsi, 4 denunce. In basso, Legnini, primo atto, ritirate 5 ordinanze. Parliamo ovviamente di ricostruzione, vediamo l'articolo di Spalla e su Bericonad c'è l'impegno per la cassa integrazione. In alto, sul Mona, Museo Ovidio, la regione dal comune, 378 mila euro. E poi l'Aquila, capitale della cultura, 70 progetti nel dossier per la candidatura del capoluogo di regione. Il calcio di serie B, dopo il K.O. Pescara in bilico, obiettivo salvezza o precipizio. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano. La città, scuole chiuse, famiglie in difficoltà, corse babysitter, nonni, smart working e permessi da lavoro dopo lo stop per il coronavirus. Non ho contagiato, vedete in alto, ma la situazione è sotto controllo. Siamo a Giulianova, caccia agli abusivi, due denunce nei controlli della guardia costiera. Roseto degli Abruzzi, doppia ricetta per rilanciare il turismo, cronaca, spaccio, rapine ed estorsioni. A soli 15 anni in basso il calcio di serie C, il tecnico del Teramo, Dimascio, pensa a Mungo. Nel ruolo di Premenecker in vista della gara di domenica prossima al Bonolis con la Virtus Franca Villa. Gara che, come tutte le altre partite, verrà disputata a porte chiuse. Vediamo l'edicola nazionale, partiamo come di consueto dal Corriere della Sera. Vedete, unità e fiducia contro il virus, l'appello di Mattarella. Supereremo questa fase, stanziati 7 miliardi e mezzo per le famiglie e per le imprese. I dati, 3200 positivi, 148 morti, 414 guariti. Bergamo, rischio zona rossa per due paesi in America. Tonfo di Wall Street e d'altronde questa epidemia, perché tale è in questo momento, sta affossando anche l'economia mondiale e le borse di vari paesi. Vediamo ancora le altre notizie. Andiamo a centropagina, l'emiro miliardario ha rapito le figlie, il processo da Dubai a Londra sotto accusa. E poi parliamo di quello che accade in Siria, Erdogan e Putin firmano la tregua. Andiamo a vedere la pagina di Repubblica, rispettate le nuove regole, niente ansia, uniti ce la faremo. Messaggio del Presidente della Repubblica, aspetta il governo decidere, l'esecutivo stanzia 7 miliardi e mezzo per sostenere famiglie e imprese. La Ministra Bonetti, voucher per le babysitter e congedi per i genitori, rinviato il referendum. Il bilancio parla di 3.296 casi e 414 guariti. Allerta al sud, altri contagi, ma i medici sono pochi e gli ospedali inadeguati. Vediamo poi in basso, Putin e Erdogan, pace armata in Siria e tregua. E poi parla Francesca Pascale per Silvio, sono stata una regina, perché fa così? Vediamo anche il fatto quotidiano, perché essere ottimisti e pessimisti il virus raddoppia ogni tre giorni. Vediamo in basso un titolo che riguarda Enio Flaiano, il notissimo cittadino illustre di Pescara. Ieri c'è stato l'anniversario per i 110 anni della nascita di Enio Flaiano, è stato anche celebrato dal comune di Pescara il notissimo regista pescarese che ha fatto la storia del cinema, ma non solo nel nostro paese, l'arte al tempo delle serrate. Vediamo questo articolo di Pietrangelo Buttafuoco. Flaiano trovò gli uffizi chiusi. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale. Mattarella in campo, Conte di Mezzato, guerra al virus, il Presidente della Repubblica parla alla nazione, fidiamoci dell'Italia, stiamo uniti. Stanziati 7 miliardi e mezzo, appello a Bruxelles, ma ancora non basta. Vedete poi uno dei problemi, delle conseguenze del coronavirus, aerei e treni vuoti, tutte le regioni infette, 600 nuovi casi al giorno, anche la Valle d'Aosta, contagiata dunque, nessuna regione del nostro paese è stata immune in questo momento rispetto al coronavirus, perché è arrivato anche il primo caso in Valle d'Aosta. E come possiamo leggere da questo titolo, tutte le regioni infette, scrive il giornale. Vediamo il messaggero nazionale, niente ansia, ce la faremo, virus, appello di Mattarella. E poi scuole, l'ipotesi di uno stop più lungo, congedi, voucher, il piano famiglie, poi contagio in corsia, un decesso a Roma, altri 14 casi positivi. Vediamo il mattino, niente ansia, l'Italia ce la farà, l'appello di Mattarella. E poi vedete la lezione, vedete al Politecnico di Milano, c'è un'aula deserta, c'è il professore che spiega la lezione alla lavagna con gli studenti in collegamento via webcam. Vediamo ancora in Campania, Cotugno, primo guarito, donna in rianimazione. E poi scuole, il piano di recupero se non riaprono il 15 marzo, perché come abbiamo visto anche prima c'è l'ipotesi anche di un prolungamento per la chiusura di scuole ed università. Il manifesto, vedete, pronto soccorso il titolo del manifesto, con ovviamente riferimento all'emergenza coronavirus e al messaggio del capo dello Stato. Vediamo in alto il dramma dei migranti alle porte d'Europa, presi tra i neofascisti e i soldati turchi. Turchi, parliamo di quello che sta accadendo proprio alle porte d'Europa, come scrive il quotidiano Il Manifesto, perché leggiamo anche questo trafiletto dell'articolo, resta senza soluzione la tragedia dei profughi che cercano di entrare in Europa attraverso il confine tra Grecia e Turchia. E poi un altro titolo, guerra siriana tra Erdogan e Putin e solo tregua. Proseguiamo con Libero, il lato buono del coronavirus, il Parlamento chiude, almeno non farà più danni, scrive Libero. Vediamo ancora un altro titolo, sempre sul quotidiano milanese, la Corea ha più malati ma da noi si muore di più solo ieri, abbiamo avuto 41 decessi, totale 148. Andiamo avanti, vediamo il sole 24 ore, allarme imprese, due su tre in difficoltà nel nostro paese, ovviamente il riferimento è anche al coronavirus, confindustria, il 65% delle aziende in Italia segnala ordini in calo e cancellazioni. E poi borse, quotazioni giù in Europa e Stati Uniti, ma Shanghai archivia il virus. E poi lo abbiamo visto anche dagli altri quotidiani, per gli aiuti il governo punta, 7 miliardi e mezzo, ne chiede 6 e 3 all'Unione Europea, in deficit. Vediamo anche il tempo, i bambini li lasciamo a Conte, scuole chiuse, genitori al lavoro. E poi capolavoro Zingaretti, Lazio, senza posti letto. Scrive il tempo e poi l'altra notizia che riguarda sempre il coronavirus, nella capitale arriva la prima vittima, morta al San Giovanni, cardiopatica 87enne, che aveva contratto il virus. La stampa di Torino, virus appello di Mattarella, il presidente parla al paese, poi il prof solo in aula, abbiamo visto la foto prima anche sul mattino, l'allunno in camera, la lezione via webcam. Secolo.it, assalto al libro, ordine dei giornalisti senza vergogna, questo è un titolo che non riguarda il coronavirus, approfittano del coronavirus per regolare i conti. E poi a proposito del coronavirus, proposte di Fratelli d'Italia per affrontare la crisi. Vediamo la verità, l'azienda del primo focolaio europeo ha due sedi e 541 dipendenti in Italia. E poi scuonistallo, le elezioni online sono un miraggio. L'altra notizia che riguarda una delle conseguenze dell'emergenza coronavirus, perché è stato rinviato il referendum sui parlamentari, arrivano più soldi, ma niente cura, shock. Lasciamo la verità, il secolo XIX, Mattarella, fiducia nell'Italia, e uniti supereremo l'emergenza. Vedete le foto di tanti medici, operatori, sanitari, soccorritori che sono a lavoro ininterrottamente nel periodo di questa emergenza. Storie e volti di chi combatte il contagio in prima linea. Vediamo avvenire fiducia e serietà. Messaggio e grazie di Mattarella agli italiani. E poi vedete Putin e Erdogan, tregua per Idlib. E poi il Papa e i giovani, ora alzatevi e vivete il messaggio per la giornata mondiale della gioventù. Lasciamo avvenire, lasciamo con il quotidiano della CEI l'edicola nazionale. Torniamo alle notizie regionali. Ripartiamo dal quotidiano il centro, ovviamente in primo piano anche nella nostra regione, l'emergenza coronavirus. Vedete c'è il nono caso, si tratta di un 32enne lancianese, è stato contagiato a Reggio Emilia, 32 anni all'ospedale di Chieti, tra l'Aquila e Teramo, altri quattro ricoveri. E poi servono 110 posti per i contagiati gravi, mancano i letti di terapia intensiva. Ecco il piano della regione per far fronte all'emergenza. e Marsiglio scrive al ministro. Trenitalia rimborse i biglietti dei viaggi annullati per virus dall'aeroporto d'Abruzzo. Riparte il volo per Milano, Alitalia fa dietro fronte. Dunque andiamo a vedere il primo servizio, proprio il servizio che riguarda il dietro fronte di Alitalia. Era stato sospeso il volo Pescara-Milano. E nelle ultime ore è arrivata invece la decisione della compagnia di bandiera del nostro paese di riattivare il volo tra l'aeroporto di Pescara e Milano-Linate. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio. È stato ripristinato dall'aeroporto d'Abruzzo il volo all'Italia-Pescara-Milano-Linate, sospeso pochi giorni fa. Da oggi infatti si potrà volare tutte le mattine e tutti i giorni da Pescara verso il capoluogo Lombardo alle ore 8 e 20, potendo fare il percorso inverso con il volo delle 19. Questo provvedimento sarà adottato fino al 31 marzo con la contemporanea sospensione del volo pomeridiano da Pescara in programma alle ore 16 e 35. Per il presidente della saga, Enrico Paolini, il ripristino dei voli può considerarsi un parziale successo, ottenuto grazie alla protesta della società e degli enti locali. Paolini però auspica di poter tornare alla normalità ripristinando il volo pomeridiano. Inoltre, conclude il presidente della saga, chiede altresì un tavolo di coordinamento con il ministro dei Trasporti De Micheli, con il commissario per il terremoto Legnini e con i presidenti delle tre regioni colpite dal sisma, Abruzzo, Marche ed Umbria, insieme ai rappresentanti dei tre aeroporti di Pescara, Perugia ed Ancona, affinché si possa intervenire per favorire l'accesso alle aree colpite dal sisma. Ha espresso la sua soddisfazione per il ripristino dei voli mattutini per Milano-Linate anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che, con un comunicato, ha sottolineato l'enorme importanza del volo nell'ottica dello sviluppo dei rapporti commerciali ed economici tra Abruzzo e Capoluogo Lombardo. Questo è il servizio di Samuele Mucci, proprio sulla riattivazione del volo tra Pescara e Milano. Parliamo ancora di coronavirus, dell'emergenza e dell'abruzzese. In prima linea, Laura, ricercatrice Giuliese, che ha catturato il virus di Sante e riuscita ad isolarlo, lavora ad Ancona con un contratto ancora precario, ma lei non si scoraggia, per me è un grande stimolo, mi aiuta ad andare avanti. Vediamo ancora, parliamo di ricostruzione, in questo caso Sisma e il commissario Leni annulla le ordinanze a rischio firmate da Farabollini, ma contestate dalla Corte dei Conti, saranno corrette per sbloccare i cantieri ancora fermi. E poi Vertenza Oshan, da Alessandro Porta il Caso a Roma, e poi la nomina Commissione, Istruzione e Cultura, Vacca e il nuovo capogruppo. E poi ex discariche, parte il piano per la bonifica, più veloce lo ha assicurato l'assessore all'ambiente, l'assessore regionale Campitelli. E poi cure per chi in fin di vita spunta il caso, in tre province su quattro funzionano, a Pescara no, il consigliere Blasioli si appella alla regione. Siamo a Pescara, ricopiano lo scontro fra investigatori, nessun falso, archiviate le accuse nei confronti dei tre carabinieri forestali, il GIP chiarisce la vicenda legata alla notazione della telefonata di D'Angelo, nessuna manipolazione, ora indagato Muriana, la procura ha aperto un fascicolo sull'ex capo della mobile, autore dell'esposto, da come eleggiamo in questo titolo del quotidiano, il centro. Più tardi vedremo un servizio su questa vicenda, torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus, le misure per evitare i contagi, le discoteche bloccano le feste, ed i balli, ed il comune sospende tutte le attività nei centri di assistenza. Proseguiamo come cambia la didattica al tempo del coronavirus, scuole chiuse, gli studenti seguono le lezioni da casa, streaming, whatsapp, registri elettronici, videoconferenze, corsi virtuali, i presidi adottano tutte le piattaforme digitali per continuare la formazione, chiusa anche la cittadella dell'infanzia che sarà ferma fino al 15 marzo, e il giudice svuota l'aula, protesta in tribunale, chiesto l'intervento dei carabinieri, da come leggiamo in questo titolo. Andiamo a vedere ancora un'altra pagina della cronaca di Pescara, in questo caso parliamo di cronaca vera e propria, bebi ladri per 5 ore, padroni di Nettuno, due coppie di ragazzini, mangiano, dorbono e rubano nel locale. E poi ex Enaip, il sindaco del Via alla Demolizione, lavori da ultimare in 10 giorni, al posto della struttura fatiscente, 200 posti auto, entro l'estate. Proseguiamo, lotta al degrado, il giro di vite del comune di Pescara, cani che sporcono, via i controlli, comune schiera, 80 volontari. E poi mozione approvata, alberi contro l'aborto, voti favorevoli anche nel Partito Democratico. Parliamo di mobilità a Pescara, Via Marconi a Tre Corsie, Fratelli d'Italia dallo stop a Masci, no alla scelta del sindaco di andare avanti con il piano, maggioranza divisa, salta anche il Consiglio. Siamo a Montesilvano, la città dopo il decreto coronavirus, chiusi centri anziani, corsi e biblioteca, aiuti alle imprese. Il sindaco fa il punto in comune, con dirigenti e maggioranze, intanto le scuole cittadine, attivano la didattica a distanza, così come in altre città, e in tutte, per quanto concede, tutte le scuole del paese. Ma le palestre e tutti gli impianti sportivi restano aperti, lo ha spiegato l'assessore allo sport del comune di Montesilvano, Alessandro Pompei. Proseguiamo con la cronaca ancora da Montesilvano, un nuovo distretto sanitario completato entro l'estate, sono in arrivo 809 mila euro dalla regione per terminare i lavori, i cozzi, così tutti i servizi potranno lasciare il vecchio edificio di Corso, Umberto. E poi Elettra Lamborghini, il pienone è un caso, il sindaco però precisa, non c'erano divieti. Andiamo avanti, Francavilla, scuole chiuse ovviamente anche nella cittadina adriatica a sud di Pescara, le presidi non sono vacanze, ecco come studiare. E a Francavilla spettacoli annullati fino al 3 aprile, i provvedimenti che riguardano il coronavirus anche a San Giovanni Teatino, chiuse biblioteche e ludoteca, le disposizioni del comune. Parliamo di lavori stradali sulla strada nazionale adriatica nord, sono partiti i lavori, Francavilla avviata la sistemazione dell'asfalto danneggiato dagli interventi antiallagamenti. Siamo alla pagina della provincia di Pescara, nell'area vestina, davanti all'ospedale spuntano i tendoni per filtrare i pazienti, siamo nei pressi dell'ospedale San Massimo di Penne, sono due tenso strutture riscaldate con personale sanitario e poi ancora penne e lezioni a distanza per 900 studenti. Ancora un'altra notizia che riguarda invece la discarica di bussi, i giudici hanno deciso, il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso della Edison sulla bonifica, ma la sentenza non si conosce. Andiamo avanti, pagina di Chieti, per quanto concerne il centro, cambiamo decisamente argomento perché a Chieti si andrà al voto e ovviamente siamo in piena campagna elettorale. Di Stefano, il mio impegno per la città ed il Marruccino, il candidato della Lega, elenca i suoi interventi in favore di Chieti a partire dal 2001. E poi la polemica, scontro aperto sui sondaggi con De Cesare è che le dichiarazioni della stampa di Paolo De Cesare nei confronti della Cramo Solution hanno fini diffamatori. C'è questa polemica tra la Cramo Solution e De Cesare. Leggiamo uno stralcio di questo articolo dalle pagine del centro. Come dicevamo, le dichiarazioni della stampa di Paolo De Cesare nei confronti della Cramo Solution hanno fini esclusivamente diffamatori. così Andrea Manis, rappresentante legale dell'Istituto di Ricerca annuncia di aver dato mandato ai suoi avvocati di verificare se visiona i presupposti per adire le vie legali. E tutto ruota, lo ricordiamo intorno alla polemica, sui sondaggi che De Cesare aveva definito fuorvianti. Questo è l'altro titolo con la polemica che riguarda sempre le amministrative di Chieti e poi vedete i muri si coprono di manifesti. Adesso parte la sfida dei poster. Vedete poi in basso la cronaca giudiziaria la cocaina pagata con i gratta e vinci chiedi scoperto maxigiro di droga per la Movida. Andiamo avanti. Coronavirus quarantena obbligatoria in osservazione 70 studenti delle Mattioli di Vasto hanno avuto contatti diretti con l'insegnante positivo al test ricoverato in malattie infettive ma in buone condizioni. E poi ancora il comitato personale sufficiente al Sampio si parla del comitato per l'ospedale di Vasto e ovviamente come abbiamo visto anche dai titoli delle prime pagine del centro ci sono problemi all'ospedale di Etermoli e molti malati sono stati trasferiti proprio a Vasto. Intanto presto ci sarà anche la sanificazione del tribunale sempre a Vasto. Da Vasto ci spostiamo a Lanciano dove salta la fiera dell'agricoltura tende montate in ospedale Croce Rossa e Protezione Civile creano il triage fuori dall'ospedale Renzetti di Lanciano. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano il centro coronavirus la situazione in provincia saltano mercato e fiera di San Giuseppe queste le decisioni del sindaco di Teramo d'Alberto e poi il rettore dell'università di Teramo agli studenti usiamo questa sospensione per scoprire la nostra umanità e poi Valle Castellana ha chiesto il rinvio del referendum il sindaco non ci sono le condizioni di sicurezza sanitaria ha detto Camillo D'Angelo primo cittadino di Valle Castellana vediamo la pagina della provincia di Teramo siamo a Silvi pensionato ucciso dall'elica la procura chiede il processo e poi a Roseto degli Abruzzi virus niente mercato ma nessuno avvisa gli ambulanti Atri anziana derubata in casa da una donna che si finge medico da Atri ci spostiamo a Pineto erosione appello alla regione l'associazione per la difesa della costa sollecita proprio alla regione interventi urgenti in tema di erosione siamo alla pagina dell'Aquila del centro coronavirus ovviamente misure di prevenzione anche all'Aquila nell'Aquilano isolata famiglia di Castel di Sangro che ha partecipato ad un funerale tre persone sono state in Pugna dove è scattato l'allarme in un paese pugliese della provincia di Foggia vediamo ancora un'altra notizia attivato il protocollo all'ospedale di Sulmona all'esterno dell'ex pronto soccorso arriva un container per accogliere pazienti vediamo a fondo pagina invece una notizia che riguarda Sulmona ma la cultura perché vedete spazio Ovidio altri fondi per il museo la regione assegna infatti al comune Peligno 387 mila euro per il completamento del progetto vediamo la pagina dell'Aquila e provincia Monticchio festa di Laura finita male il caso preso a morsi in discoteca quattro denunciati e poi l'attitante albanese arrestato all'Aquila dopo un controllo in strada della polizia e poi il dramma all'Aquila trovata morta sentiti i familiari eseguito l'esame dello stub sulla giovane madre scomparsa vediamo a centro pagina ci spostiamo ad Avezzano e dunque nella Marsica palmieri in pista con laboratorio civiltà elezioni al comune di Avezzano l'ex dirigente sindacale punta ad una lista con un aspirante sindaco torniamo all'Aquila la tua presenta 12 nuovi autobus comfort per Roma il presidente Giulianti abbiamo posto particolare attenzione alla linea tra l'Aquila e la capitale dunque collegamenti potenziati e nuovi pullman per i collegamenti appunto scusate il gioco di parole tra l'Aquila e la capitale e poi una notizia che riguarda la prossima perdonanza perché il cardinale Zuppi aprirà la porta santa il prossimo 28 agosto il cardinale Zuppi neocardinale ed arcivescovo di Bologna siamo arrivati alle pagine dello sport e allora possiamo fermarci per questa prima parte di mattino 6 poi torneremo in studio andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero e del quotidiano la città di nuovo in studio la seconda parte di mattino 6 siamo alla pagina prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero si parla ovviamente dell'epidemia del coronavirus che avanza vedete il nono contagio a Chieti studenti in quarantena e poi in basso commercio turismo imprese in pericolo tavolo di monitoraggio sindacati regione parliamo anche nella cronaca di Pescara della scuola in casa per evitare il contagio con la chiusura disposta fino al 15 marzo gli istituti scolastici si organizzano per allestire un piano alternativo di didattica vedete lezioni smart grazie alle piattaforme disponibili sul web al classico stop ai corsi per maturandi le scelte del Galilei e poi vedete niente udienze in tribunale e servizi fermi aperti i cinema e allora andiamo a vedere il prossimo servizio che fa proprio il punto della situazione sull'emergenza coronavirus della nostra regione in Abruzzo salgono a nove i casi di coronavirus di cui sette già confermati dalle controanalisi dei centri di secondo livello un uomo di 32 anni residente in provincia di Chieti infatti è risultato positivo al covid-19 nel test eseguito all'istituto Spallanzani di Roma il primo test era stato effettuato come da prassi nel laboratorio di riferimento regionale a Pescara e aveva dato esito dubbio il paziente che si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Chieti ha riferito di essere rientrato da Reggio Emilia dove aveva partecipato ad un corso di formazione già durante il viaggio di ritorno aveva accusato sintomi influenzali che lo avevano spinto a restare a casa alla comparsa di problemi respiratori però si è recato all'ospedale di Chieti da solo e con la propria auto è stato dunque preso in carico secondo i protocolli stabiliti e ricoverato in isolamento l'Abruzzo comunque continua a restare fuori dalle regioni cluster il che significa che al momento non esiste alcun focolaio epidemico ciò nonostante anche la nostra regione deve attenersi alle nuove regole igienico-sanitarie introdotte dal decreto d'urgenza firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Conte che ha l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione del coronavirus per cercare di non gravare troppo sul sistema sanitario nazionale nella mattinata di oggi all'Aquila il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha tenuto un vertice con i quattro prefetti delle province abruzzesi per fare il punto della situazione alla luce proprio del nuovo decreto governativo appena emanato il presidente si è appellato al senso civico dei cittadini Parliamo ancora dell'emergenza coronavirus con la guida alla lettura in quarantena vedete e poi l'articolo che riguarda il volo ritrovato ne abbiamo parlato prima abbiamo visto anche il servizio all'Italia fa infatti dietro front sì al Pescara Linate al mattino andiamo a vedere l'altra pagina della cronaca di Pescara sul messaggero parte lunedì la guerra affido sporcaccione multe fino a 500 euro e poi tavolo in regione l'enaia di in ripresa con la nuova gestione poi alberi antiaborto iniziativa grave secondo la sinistra vediamo ancora Montesilvano De Martinis sospende tutte le attività sociali e poi l'uspe a lavoro nel parcheggio dell'ex Enaip è stata infatti avviata la demolizione andiamo a vedere l'altra pagina di Pescara la cronaca giudiziaria Rigopiano forestali prosciolti ora sotto accusa c'è Muriana archiviata l'inchiesta contro tre carabinieri forestali nata dalla denuncia dell'ex capo della squadra mobile il vicequestore indagato per la gestione della notizia sulla telefonata del cameriere andiamo a vedere la prossima pagina del messaggero l'Aquila San Filippo rinascita vicina buttafuoco uno splendore e poi pronto il dossier per l'Aquila candidata ad essere la prossima capitale della cultura vediamo poi in basso la cronaca risse in discoteca scoperti responsabili e poi la piaga trovato con la cocaina giovane arrestato proseguiamo siamo ancora all'Aquila università verso le elezioni via internet coronavirus l'Ateneo si organizza ecco scadenze di vieti e indicazioni all'ex ospedale la cittadella del sapere casa dello studente e sala da 800 posti vediamo ancora ex Otefal accolto il ricorso della framiva e poi sanità approvata risoluzione del consigliere Amerigo di Benedetto e poi ne parlavamo anche prima il neocardinale di Bologna Zuppi aprirà la porta santa e il pronipote dell'amato Confalonieri vediamo un'altra notizia con le misure sempre anti coronavirus la chiesa delle anime sante dell'Aquila messa in diretta streaming proseguiamo chi torna in paese si metta in quarantena avviso pubblico a Castelvecchio su Bequo per chi viene dalle regioni a rischio dopo le delazioni di alcuni abitanti e poi Celano Unione Popolare si fa sintesi a sinistra Castel di Sangro una famiglia sangrina in isolamento volontario Avezzano i politici nel Mirino una serie di attentati poi spaccio in piazza sentiti i minori sul Mona spazio video 378 mila euro per il museo infine Marsilio Blitz in comune del presidente della regione che si reca anche ad incontrare il commissario di Avezzano siamo a Chieti parliamo di politica in questo caso teatro sanità sisma di Stefano Elenca gli impegni per Chieti e poi la vita sociale cambiata dal virus sospese pure le prove del miserere vediamo in basso reddito di cittadinanza piano di lavori sociali per i beneficiari e poi anziana scomparsa ricerche nella zona del centro d'ama per ritrovare una settantasettenne andiamo a vedere la prossima pagina che è quella di Lanciano Vasto e Ortona si laurea discutendo la tesi su Skype Matteo Pinnella proclamato dottore a schiavi d'Abruzzo e a Lanciano Pretriage nella tenda rinviata alla fiera dell'agricoltura Vasto il nuovo business delle mascherine ai semafori e poi ancora Lanciano Uninet 1 aumentano gli iscritti infine un titolo in basso che riguarda Ortona Santissima Trinità la chiesa che muore nell'abbandono andiamo a vedere la pagina di Teramo del messaggero niente fiera più spazio tra le bancarelle coronavirus incontro in prefettura tra sindaci sul decreto d'Alberto distanziati gli ambulanti ma domani sarà stop le scuole si preparano all'insegnamento a distanza al conservatorio Braga piattaforme digitali e corsi online ricostruzione il neocommissario Legnini ritira 5 ordinanze last minute semplifichiamo dice Legnini e poi mercato annullato a Giulianova ma nessuno lo sa l'ira dei commercianti merce buttata poche ore di assistenza al disabile comune condannato l'assessore di Atri provvederemo noi a pagare per lo studente anche se spetta alla Regione vediamo la prossima pagina siamo a Giulianova insulte carabinieri blitz in casa e poi vertenza a TR scontro in consiglio comunale a Colonnella infine ci spostiamo a Tortoreto Giulia vittima di un pedofilo via al processo per le foto hard siamo arrivati allo sport e ora possiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città ripartiamo da pagina 3 dalla vicenda Rigopiano archiviate tre denunce il GIP smonta le accuse nei confronti dei tre carabinieri forestali apre un fascicolo sull'ex capo della squadra mobile della questura di Pescara Muriana e poi ambiente ex discariche la regione velocizza le procedure per le bonifiche vediamo in basso il ritorno del volo da Pescara verso Milano è stata accolta con favore dalla Saga la decisione di Alitalia di ripristinare il volo Pescara Milano Linate emergenza coronavirus le famiglie terramane noi non lasciateci sole lo stop alle attività didattiche crea infatti disagi ai genitori partita la corsa babysitter nonni smart working e permessi da lavoro vediamo poi in basso come gli istituti terramani si stanno organizzando per le lezioni online con gli studenti nono caso ma la situazione è sotto controllo nono caso di coronavirus in regione si tratta di un 32enne di Chieti tornato da Reggio Emilia presidente della regione Marsiglio ha invece incontrato sindaci prefetti e le Asle i vertici delle quattro Asle abruzzesi stop agli eventi ma la ristorazione terramana non si ferma timori per le ripercussioni sul commercio anche in città i ristoratori rispettiamo dicono tutte le regole a Teramo salta il mercato di domani si lavorerà per garantirlo da sabato 14 marzo mentre è stata rinviata la fiera di San Giuseppe la BCC di Roma offre misure agevolative all'Abruzzo per venire incontro alle esigenze di liquidità degli operatori turistici e di servizi Cozzi attacca sperimentazione discriminatoria il consigliere dell'opposizione giudica la nuova raccolta porta a porta disorganizzata e approssimativa proseguiamo Valdo affida a pari della videosorveglianza Teramo sarà così finalmente dotata di un impianto funzionante che andrà a coprire le zone più sensibili parliamo di politica fina merito dell'EPD se c'è attenzione per l'Abruzzo ha detto il segretario regionale del Partito Democratico parliamo anche di ricostruzione perché il neocommissario alla ricostruzione Giovanni Legnini ritira 5 ordinanze di Farabollini sono atti sui quali la Corte dei Conti ha formulato una serie di rilievi di legittimità ora l'obiettivo è procedere alla verifica per dare un primo forte impulso alla semplificazione e alla ricostruzione con lo scooter contro un bus pompiere finisce in ospedale a Teramo è sempre a Teramo controllo della squadra mobile alla gammarana giovane in manette per spaccio siamo a Giulianova ancora cronaca spaccio estorsione rapine a soli 15 anni studente arrestato dai carabinieri e poi Bellante il comune dona gli alimenti della mensa chiusa al banco alimentare e poi questa bella rimpatriata che arriva da Montorio dove i ragazzi della terza F si ritrovano dopo 40 anni proseguiamo raccolta fondi per sostenere i lavoratori dell'ATR siamo a Colonnella i sindacati sono tornati a sollecitare l'immediata attivazione della cassa integrazione ordinaria da parte dell'azienda in basso siamo sempre in Val Vibrata Torano accesso agli atti dell'opposizione sugli accertamenti dell'Atari il gruppo di minoranza anzi pardonne il capogruppo di minoranza Piera Ruffini torna all'attacco il sindaco non accetta dice critiche fondate su dati oggettivi siamo alla pagina di Giulianova due denunce per gli abusi sulle spiagge nuova ispezione da parte della guardia costiera giuliese dell'agenzia del demanio di Pescara vediamo poi più in basso Giulianova anche Brandiferri chiede l'apertura dell'RSA di Villa Volpe la consigliera di parità raccoglie le istanze di alcune famiglie ormai esasperate vediamo infine in basso Giulianova insulte carabinieri e posti il video su Facebook nei guai un 31enne proseguiamo la pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi sempre dal quotidiano la città via ai lavori della palestra di Colonia Spiaggia dopo una lunghissima discussione sul posizionamento è finalmente cominciato l'intervento tanto attesi il vice sindaco Tacchetti dice la scelta migliore che potevamo fare perché va a preservare la metà del parco Pineto Matteo Santarelli il segretario del circolo del Cerrano si è tenuto mercoledì infatti il secondo congresso per rinnovare le nuove cariche sociali siamo ancora a Roseto due ricette per rilanciare il turismo rosetano le proposte di Angelo Marcone e Manio Nugnes per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza virus ancora Roseto polemica sulla mancata comunicazione agli ambulanti del mercato Fratelli d'Italia critica l'amministrazione per non aver avvisato della sospensione a causa delle misure antivirus pagina della cultura un'infrastruttura di nome cultura per il coronavirus stop generale ma il fermo può essere l'occasione per riflettere su come investire e dunque abbiamo esaurito anche le pagine del quotidiano la città e in quest'ultima parte di mattino 6 come sempre parliamo anche di sport sport calcio in particolare ma tutte le discipline sportive ovviamente devono adeguarsi e dovranno adeguarsi lo stanno già facendo per l'emergenza coronavirus dopo il decreto firmato dal presidente del consiglio tutte le gare si giocheranno a porte chiuse le gare di ogni disciplina sportiva partiamo dalla gazzetta dello sport Juve Inter due presidenti insieme a Londra prima del big match Big Bang vedete il numero uno bianconero riapre alla riforma delle coppe che favorisce i top club vedete da una parte Agnelli dall'altro Zang e poi i dubbi di Ibra siamo al Milan il Milan in bilico ora c'è passione o non si fa nulla vediamo il corriere dello sport in alto si parla della Roma del cambio di proprietà Fridgin a fretta e poi Agnelli un caso il numero uno della Juve riapre il dibattito sulla riforma della Champions League vediamo anche tutto sport Agnelli ma cosa dici Andrea Atalanta in Champions Roma fuori è giusto l'ira dei tifosi della Dea ma se non vinci la Coppa da 24 anni questo il sottotitolo il sommario dell'articolo del titolo per meglio dire di tutto sport quotidiano torinese poi Juve Inter pace a cena Agnelli distende il clima in vista della partitissima di domenica sera e noi siamo alle pagine dello sport partendo dal centro pagine dello sport regionali ma ovviamente si apre con il titolo che riguarda Juventus Inter torna la Serie A Agnelli Zang una sfida tra amici allora andiamo a vedere grazie a questo specchietto anche per fare un po' di chiarezza dopo quanto accaduto nelle ultime ore i recuperi del campionato di Serie A si parte domenica alle 12.30 il derby emiliano Parma-Spal alle 15 Milan-Genoa Sampdoria-Verona Udinese-Fiorentina alle 18 Juventus-Inter come detto alle 20.45 lunedì si giocherà Sassuolo-Brescia alle 18.30 mercoledì 18.30 Atalanta-Sassuolo Torino-Parma Verona-Cagliari Inter-Sampdoria e invece partita che dovrà essere definita dunque bisognerà trovare una data utile vediamo ancora l'Atalanta verso il match di Champions League con il Valencia Atalanta blindata a Zingonia Gomez il virus non ci batterà detto l'attaccante della formazione nera-azzurra e siamo alla pagina dello sport che riguarda la Serie B dunque il Pescara parla il direttore sportivo della formazione abruzzese Antonio Bocchetti che dice il Pescara paga le assenze il rimpianto del DS dopo il K.O. di La Spezia dall'inizio della stagione mai vista la squadra al completo che peccato vedete poi la classifica di spalla qui in questo riquadro del campionato di Serie B Pescara in pratica a metà classifica ma le distanze sono ridottissime tra la zona playoff e la zona playout Pescara che tra l'altro domenica sarà atteso dal match in casa della supercapolista Benevento e parla proprio il tecnico del Benevento Inzaghi che dice stiamo facendo un qualcosa di irripetibile Benevento che in pratica ha quasi già vinto il campionato e blindato il primo posto in vista della gara del Vigorito tornano Busellato Bettella e Memuschai dalla Lega le prescrizioni per giocare a porte chiuse e limitare i rischi di contagio come dicevo tutte le partite si giocheranno a porte chiuse dunque anche al Vigorito la partita si giocherà senza pubblico andiamo a vedere la pagina del Pescara del messaggero Pescara in bilico salvezza o caduta il Defino deve pensare a blindarsi fino a maggio non può avere crisi e poi Bocinovo proviamo a battere il Benevento dice il giocatore della formazione Bianca Azzurra che ha giocato una ultima parte di gara l'ultima parte di partita al picco con lo Spezia e poi in campo lo spettro della capolista Cannibale perché Pescara giocherà contro il Benevento che sta davvero polverizzando tutti i record del campionato cadetto parliamo anche della Serie C del Teramo Teramo a porte chiuse due gare senza incassi il presidente della Lega Pro Ghirelli vanno pensati aiuti finanziari e fiscali Serie D rinviati tutti i match annullato il recupero del 15 marzo verranno allestiti i nuovi calendari per il recupero di queste partite e poi intanto eccellenza la Torreste ora ci crede si avvicina il sogno della Serie D per la formazione teramana calcio a 5 salta anche il big match Real Rieti Acqua e Sapone poi invece basket Sharks difficile trasferta sul parquet del Ferrara torniamo al quotidiano il centro Teramo due gare da rimborsare ai 1.064 abbonati vigilia surreale della sfida contro la Virtus Francavilla tra silenzio stampa e direttive per prevenire il coronavirus questo è il titolo di pagina 35 sul centro e allora andiamo a vedere le partite a porte chiuse che riguarderanno il Teramo porte chiuse sia in casa che in trasferta dunque domenica prossima Teramo Virtus Francavilla verrà disputata alle 17.30 a porte chiuse e poi porte chiuse per Casertana Teramo che si giocherà il 15 marzo alle 15 Bisceglie Teramo che si giocherà il 22 marzo alle 17.30 Teramo Picerno che si giocherà il 25 marzo alle 20.45 e Ternana Teramo che si giocherà il 28 marzo alle 20.45 le gare senza pubblico saranno quelle che si disputeranno fino al 3 aprile perché il 4 aprile scade il decreto del Presidente del Consiglio e poi ovviamente bisognerà capire come ci si muoverà se ci sarà un nuovo decreto o se si tornerà a giocare a porte aperte ma intanto invece tutte le gare verranno giocate e disputate senza pubblico e vedete questo titolo dilettanti e giovani decidono di fermarsi per una settimana si ripartirà infatti il 14 il 15 marzo domenica prossima non solo non si giocheranno le gare del campionato nazionale di Serie D ma saranno fermi tutti i campionati di calcio regionali dunque dall'eccellenza promozione prima e seconda e terza categoria vediamo anche un'altra notizia ovviamente lo sport che sta pagando anche le conseguenze di questi blocchi e di queste partite a porte chiuse anche il rugby vedete blocca tutti i campionati è stata rinviata anche Italia Inghilterra del 14 marzo vediamo il basket il basket che è dopo la sosta per l'emergenza coronavirus riparte si gioca anche in questo caso senza pubblico Roseto a Ferrara domenica alle 18 sospesa l'attività l'abbiamo visto prima del calcio a 5 e anche nel volley la sieco impavida in campo con tutte le gare che però verranno disputate senza la presenza dei tifosi all'interno degli impianti vediamo la pagina che riguarda l'atletica leggera siamo in questa ultima parte di mattino 6 con la ventenne mezzofondista teramana vedete nella foto la foto grande Gaia Sabatini bella promettente sexy Sabatini corre forte ed è la regina dei sociali il titolo italiano indoor sui 1500 metri la prodo nelle fiamme azzurre gli oltre 94 mila followers su Instagram vedete anche questa piccola scheda di Gaia Sabatini nata a Teramo il 10 giugno del 99 dove ha studiato fino all'età di 19 anni ed è cresciuta agonisticamente nell'atletica Gran Sasso Teramo società con la quale è stata tesserata dall'età di 10 anni nella quale è militato fino al 2019 dunque fino allo scorso anno quando è stata arruolata nel gruppo sportivo delle fiamme azzurre il primo allenatore è stato Marcello Vicere ora la Sabatini è seguita da Andrea Ceccarelli nel suo curriculum agonistico si contano quattro presenze in nazionale giovanile tutte nella categoria under 20 ha partecipato agli europei di categoria nel 2017 dove si è piazzata ottava sui 1500 e mondiali di categoria nel 2018 dove è risultata tredicesima prima delle escluse dalla finale in carriera ha vinto finora 10 titoli italiani 7 al coperto e 3 all'aperto dei quali 9 giovanili e 1 assoluto conquistato sabato 22 febbraio e dunque qualche giorno fa davvero una vera e propria promessa ma anzi una realtà a questo punto dell'atletica italiana Gaia Sabatini la mezzofondista Teramana lasciamo le pagine dello sport del quotidiano il centro andiamo a vedere invece lo sport prima di salutarci per quanto concerne il quotidiano la città l'apertura ovviamente è dedicata al calcio e al Teramo in particolare perché si guarda alla gara di domenica prossima abbiamo visto alle 17.30 a porte chiuse al Bonolis con la Virtus Francavilla il tecnico del Teramo Cetteo Di Mascio pensa ad un Mungo Playmaker il tecnico Biancorosso ha provato l'ex Cosenza davanti alla difesa nella formazione pugliese davanti Scalpita Marozzi vediamo poi in alto un altro titolo che riguarda il Teramo in vista della gara di domenica per quanto concerne la formazione Minelli ancora in dubbio l'attaccante sta lavorando a parte rischia di saltare anche il match con i pugliesi che non avranno Perez ma potrebbero sostituirlo con il giovane centravanti già titolare per tre volte ovvero Marozzi dalla serie C alla serie D perché salta tutta la 27esima giornata per vista per questo weekend è stata rinviata interamente a data da destinarsi il dipartimento interregionale infatti disposto anche l'annullamento dei recuperi programmati dall'11 marzo al primo aprile la sospensione riguarda anche il campionato nazionale Juniors per quanto concerne i campionati di eccellenza la Lega Nazionale di Lettanti ha indicato alle proprie strutture regionali di provvedere la disputa di turni infrasettimanali delle gare da recuperare inoltre laddove vi siano stati provvedimenti di sospensione delle attività i campionati compresi i playoff dovranno concludersi entro e non oltre il 24 maggio anche per le fasi nazionali riservate alle seconde classificate dei singoli campionati di eccellenza le stesse non potranno avere inizio oltre il 31 maggio del 2020 e dunque previsti turni infrasettimanali per recuperare le gare non giocate noi dal calcio passiamo all'handball alla palla a mano con la Lions Teramo che inizia la sua avventura nella fase ad orologio al Palazzo San Nicolò sabato i biancorossi sfideranno il Benevento nella cosiddetta fase 2 la gara come ovviamente già ampiamente detto si giocherà a porte chiuse vediamo poi l'altra pagina con lo spazio dedicato al CSI calcio in due punteggio pieno nel girone C Caffè Desartis Teramum e Miller Voltarrosto vincono e si portano a braccetto a quota 6 e poi in basso nuoto due manifestazioni ai blocchi di partenza l'offerta sportiva arancio blu si arricchisce con il campionato regionale ed il trofeo regionale ma poi vedete questo titolo di spalla perché il CSI si ferma perché sono state sospese le attività ufficiali proprio in funzione del decreto del presidente del consiglio emanato nella serata del 4 marzo e che prevede la sospensione di qualsiasi manifestazione di qualsiasi natura nonché degli eventi in luogo pubblico per quanto concerne proprio l'emergenza coronavirus dunque lo sport sta pagando delle conseguenze anche pesanti in vista in conseguenza di questa emergenza coronavirus tutte le partite dei vari campionati si giocheranno a porte chiuse altre sono state sospese o rinviate alle prossime settimane e noi siamo giunti al termine dunque dell'appuntamento di oggi di venerdì 6 marzo con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 sulla nostra rete io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo gli appuntamenti con la nostra emittente per quanto concerne l'informazione alle 14 la prima edizione del TG6 le altre edizioni alle 19 e alle 23 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti